E se decidessimo di riparare Eldr Ring con la runa del Mangiasterco? La runa maledetta? Che succede? La runa maledetta? Che succede? Che succede? The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall. The reviled curse that defined our age. The blessing of despair.